La bomba! La bomba! Eta marxa! De una bomba! Esa es la bomba! La bomba! Sube, sube, que la bomba va! Dando media vuelta! Boing! Otra vuelta más! Boing! Chega la esquina! Nena! Dame más! Dando media vueltas, otra vueltas más Y en cada china, nena dame más Señores, la profesionalidad de Mr. Claudio Catanzani, a las tazas Arriba el talentuoso chitarrista de Blue Note, se llama Angelo Anastasio E ancora, al suo fianco al basso, Mr. Angelo Zottino La sezione piati, la coppia, Craverotti-Butticea al Zanz Alessio Craverotti alla tromba, Mr. Villo-Butticea Lo ringrazio, un amico, un grande professionista La partecipazione straordinaria a questa serata Di Mr. Sante, alla fisarmonica Sante, paladini per voi Arriba, arriva, a Dulcis in fondo, il groove Che ci travolge l'energia, il ritmo La batteria è quella di Mr. Claudio Colazza E le percussioni of Orfeo Norcia Signore, no lo so, ne prende la linea di una musica partita Ci teniamo a nominarli tutti quanti Perché se lo meritano Perché sono dei veri, veri, veri professionisti